Un grande nel film What Women Want è stata una delle cose veramente carine di questo Mel Gibson di all'epoca Cosa vogliono davvero i tuoi clienti? E questo lo faccio in maniera molto veloce perché ne abbiamo parlato veramente spesso Le palestre fanno questo Il cliente purtroppo da un certo punto di vista, come vi dicevo, è assolutamente egoista Il cliente vuole sapere in che modo veramente il tuo servizio può cambiargli la vita Come può trasformarlo, che vantaggio puoi dargli grazie al tuo prodotto Quindi quando vado al primo contatto, alla base della mia piramide La prima cosa che devo pensare è cosa vogliono davvero i miei clienti Quindi inserire quello che abbiamo visto stamattina e trasformarlo in materiali Parlare alla pancia del mio cliente, parlare al desiderio che nutre il mio cliente Grazie 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 Grazie